Un presepe ambientato tra le strade e vicoli della città di Bari. I piccoli studenti della scuola Duse Don Bosco di Bari, istituto comprensivo nel quartiere Libertà, hanno realizzato una vera e propria opera d'arte. Il presepe infatti ricostruisce i luoghi simbolo del quartiere, dalla chiesa del Redentore alla scuola Don Bosco, passando poi anche al borgo antico del capologo pugliese, con le tradizionali case incastonate tra i vicoli e la muraglia. Sono stati gli studenti a presentare il presepe con un vero e proprio spettacolo teatrale. La vera magia di questo Natale è lo stare insieme. Qui in questo istituto vi sono mille religioni, però abbiamo un unico Dio, è quello dell'amore, dello stare insieme, della collaborazione, del venirci incontro. Accanto ad uno spettacolo realizzato dagli studenti, dai bambini e dagli alunni di questa scuola, che proprio parla della bellezza e dell'importanza di stare insieme nelle diversità. Amelia Chieco, insegnante diplomata all'Accademia di Belle Arti, e la curatrice Annalisa Fusaroli hanno supervisionato il lavoro dei ragazzi e delle ragazze. Sono stati necessari tre mesi per terminare il presepe. È un lavoro fatto insieme ai bambini, con il polistirolo e con la ceramica, perché in questa scuola abbiamo il forno, lavoriamo molto in questo laboratorio d'arte. Sono ragazzi molto molto partecipi, molto attenti, coinvolti e amano questo tipo di attività. La manualità per loro è fondamentale.